Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto il wrap up delle letture di ottobre. Cominciamo subito con la prima lettura che ho fatto appunto ad ottobre, che è stata sulle tracce di Jack lo squartatore di Carrie Maniscalco. Di questo in realtà ne ho già parlato sul canale, ad ogni modo ne ho fatto anche una video recensione che vi metto su nelle schede se siete curiosi di saperne qualcosa in più. Lo avete visto comunque anche negli unboxing e quant'altro. Questo è il primo di una serie di quattro libri, il cui libro conclusivo esce adesso a novembre. Appunto ho detto il primo di una serie di quattro e innanzitutto vediamolo perché è bellissimo dal punto di vista estetico. Tutte e quattro libri sono usciti Oscar Mondadori, Oscar Volt Mondadori. Sono qualcosa di meraviglioso dal punto di vista estetico. Hanno tutti queste cover che io trovo favolose. Questa è La Costa e questo è Il Retro. Poi si toglie la sovraccoperta, sotto la sovraccoperta abbiamo il poster praticamente della cover e sotto abbiamo questo elemento che richiama appunto l'interno del libro. Ha poi le pagine verdi, è uscito al costo di 20 euro per circa 370 pagine. Di cosa parla questo libro e poi in generale la serie. La serie di ambientazione vittoriana, il primo ambientato proprio a Londra, nella Londra vittoriana, dove c'è questa giovane Audrey Rose che dovrebbe dedicarsi appunto alla vita da nobile donna e quindi a cercare il marito essenzialmente perché quello si poteva fare, ma che ha il desiderio di diventare medico legale e quindi segue le tracce dello zio appunto per dedicarsi a questa carriera che è decisamente anomala per l'epoca per una donna. Nel farlo incontra l'assistente dello zio che è Thomas Cresswell. I due indagheranno in questo primo libro intorno agli omicidi di Jack lo squartatore. L'ambientazione vittoriana, insomma gli omicidi, Jack lo squartatore, c'è il romance, assolutamente lettura consigliata se vi piace questo genere. Certamente c'è il romance, ragazzi, c'è poco da fare, buona parte del libro è incentrata sul romance, però ha questa ambientazione, insomma, meravigliosa. Se vi piace il genere, se vi può piacere appunto un romance, un misteri ambientato appunto in un'epoca vittoriana, è sicuramente una lettura che vi straconsiglio. Il secondo, devo ancora iniziare a leggerlo, che è Alla ricerca del principio oscuro, poi c'è In fuga da Udini e appunto a novembre esce l'ultimo, che in questo momento ho un vuoto, non mi ricordo come si chiama, ma comunque gira intorno alla figura del diavolo. L'ambientazione appunto detto per tutti è quella vittoriana, nel primo ci troviamo a Londra, nei successivi andranno a vagare per l'Europa. Ad ogni modo, se siete curiosi, vi ho detto, vi metto nelle schede la recensione di questo libro, che assolutamente mi è piaciuto. L'altro libro letto ad ottobre, ma che non ho cartaceo con me fisicamente, e quindi vi metto la cover qui, è Il curioso caso di Benjamin Button. Io di questo avevo visto il film e l'avevo trovato orrendo, ma amando comunque lo scrittore ho deciso di andarmi a leggere il libro, che decisamente mi è piaciuto molto, molto, molto di più del film. È molto più leggero innanzitutto, molto più scorrevole del film, poi insomma c'è lo stile di scrittura che è sicuramente meravigliosa, che io apprezzo moltissimo, che rende la lettura molto piacevole. Che cosa racconta in breve questo romanzo? Racconta di questo Benjamin Button, che durante gli anni va mano a mano ringiovanendo, diventando poi appunto un neonato, quando invece dovrebbe essere anziano. Ovviamente si troverà a interagire con la società, malgrado per lui le cose vadano completamente all'opposto della normalità. È un libro ovviamente molto ironico, di critica sociale sicuramente, e sicuramente anche molto piacevole da leggere. Ecco, io l'ho decisamente preferito al film, anche perché il film è molto più faticoso, molto più pesante secondo me del romanzo. Su alcune cose si deve soprassedere, per esempio all'inizio lui nasce anziano, insomma un uomo anziano per quanto fragile e delicato, comunque distanza, e tutti gli è di sta povera madre, come diamine ha fatto a tirarlo fuori. Però è ovviamente un libro che gioca sull'ironia, sulle situazioni assurde. Sicuramente una lettura davvero piacevole. Se non avete visto il film, sicuramente io vi consiglio, piuttosto leggetevi il libro, che è molto più piacevole. Oltretutto è anche molto scorrevole, non ricordo quante pagine ha, ma io l'ho letto veramente in poco tempo, perché è anche molto scorrevole, quindi sicuramente è una lettura consigliata. Altra cosa letta, di cui non ho il cartaceo, perché l'ho letto in digitale, è Airstopper 2. Di Airstopper in realtà, io ho fatto la video recensione del volume 1, che vi metto nelle schede. Airstopper è una graphic novel, scritta e disegnata da Alice Hoffman. Questo è il 2 della serie. È in realtà una storia d'amore molto, molto leggera, molto di intrattenimento, allegra, semplice, che racconta la storia di due ragazzi, che si innamorano, che devono affrontare anche, soprattutto uno dei due, dove deve affrontare la consapevolezza della sua omosessualità. È una storia molto leggera, veramente poco impegnativa, sia dal punto di vista dei disegni che della storia. È sicuramente una storia di leggero intrattenimento. Io lo definisco una coccola, perché è veramente dolce, come soprattutto uno dei personaggi, perché i protagonisti sono Nick e Charlie, soprattutto uno dei due protagonisti, è veramente la dolcezza. e questi volumi sono veramente la dolcezza. Ecco, se avete bisogno di farvi una coccola al cuore, sicuramente i due volumi di Airstopper sono indicati, perché sono veramente una coccola. Vengono affrontati comunque temi anche importanti, ma con una delicatezza, una dolcezza, nella narrazione, nei personaggi che hanno questi caratteri molto buoni, delicati, in pace col mondo, per cui è sicuramente una coccola per il cuore, soprattutto in un momento come questo, in cui abbiamo bisogno di un po' di bontà, sicuramente Airstopper è l'ideale. È un graphic novel, un fumetto, quindi non è un romanzo, ma veramente leggero. Si legge anche in tempi brevi, mi pare, credo abbia sulle 200 pagine, credo, ma non vorrei sbagliarmi. Ad ogni modo, sono comunque narrate in maniera molto semplice, sono parecchie pagine a vignette intera, insomma si legge anche in maniera molto veloce. Il secondo in realtà è molto simile al primo, continua la storia appunto di Nick e Charlie, ci si sofferma di più su un dettaglio in particolare della loro storia, di cui non vi dirò molto, perché appunto tutto il volume si sofferma su questa ricerca di consapevolezza di uno dei due personaggi, che se vi dico è spoiler, ovviamente, quindi tutto il volume è incentrato, è incentrato intorno a questa ricerca, però rispetto al volume precedente, vengono presentati nuovi personaggi. Sicuramente la rappresentazione del mondo LGBT+, qui sicuramente la troviamo, fatta oltre a tutto veramente bene. Altra cosa letta sempre ad ottobre, è le 10.000 porte di January. Questo in realtà è l'arc che gentilmente la Mondatori mi ha mandato. Il volume in realtà è già uscito, ed è qualcosa di meraviglioso. La sovraccoperta all'interno della sovraccoperta è illustrata, le pagine gialle, insomma. Quindi sicuramente il cartaceo è bellissimo. Veniamo all'epro in sé. Anche di questo ho fatto la video recensione, comunque ve la metto nelle schede, sempre che non finiscano le schede, comunque nel caso cerco di mettervela giù nell'info box. Di cosa parla le 10.000 porte di January? È un megalibro, c'è un libro nel libro, che racconta di storie. Detto così avete già capito che è molto simile al Mare senza stelle, anzi spesso viene paragonato al Mare senza stelle. Io devo dire che tra i due ho preferito l'altro, perché qui la narrazione, lo stile di scrittura della scrittrice, è veramente lontano dai miei gusti. Però mi rendo conto che invece è molto più fruibile dalla maggior parte dei lettori, perché in questo romanzo abbiamo appunto un libro nel libro. Infatti le 10.000 porte di January, proprio le 10.000 porte sono un libro all'interno del libro che January trova, e attraverso il quale capisce che può viaggiare attraverso i mondi tramite appunto queste porte. Quindi capite insomma che si parla di viaggi. Qui la narrazione è molto più dinamica rispetto al Mare senza stelle. Qui il punto fondamentale appunto sono i viaggi. Il mio problema con questo tipo di scrittura è che non mi vengono per niente descritti i personaggi. Per cui io non essendo amante di libri sui viaggi, punto e basta, e invece avendo bisogno di una scrittura sui personaggi molto più accurata di quella che viene fatta in questo libro, sicuramente l'ho apprezzato meno. Però appunto magari è più adatto a chi invece ama libri sui viaggi. È un fantasy. January che viene cresciuta dal signor Locke in questa villa all'inizio del Novecento. January che è di pelle mulatta, quindi non è bianca e non è nera, quindi non può appartenere né a un mondo né all'altro e proprio per il colore della sua velle viene anche marginata dall'elite dell'epoca che appunto cresce nella giadezza a casa del signor Locke fino a quando non trova questo libro, Le Dicimila Porte. Libro anche che le svela che forse può ancora cercare il padre e che forse è ancora vivo. Quindi January ovviamente si mette a viaggiare per questi mondi cercando il padre, ma soprattutto cercando la vita su se stessa. È sicuramente un libro, appunto, abbiamo detto, molto dinamico, che parla di viaggi. Ecco, io ho veramente un problema con questa scrittrice, evidentemente, però, appunto, se siete amanti di fantasy invece che raccontano di viaggi, magari può piacervi. Comunque so che molti è piaciuto, quindi fatemi sapere se l'avete letto, scrivetemelo sotto nei commenti, invece se voi siete di un'idea diversa dalla mia. Dopo Le Dicimila Porte di January ho letto questo manga qui, Orgoglio e Pregiudizio. Anche di questo ho fatto una video recensione che vi metto sempre nelle schede e casomai, se riesco, nell'info box. Ad ogni modo, sono due volumi Editi Cohen in italiano che racchiudono, appunto, la versione manga della storia di Orgoglio e Pregiudizio della Austin. Io adoro Orgoglio e Pregiudizio, quindi mi piace leggerlo in altre versioni e ho deciso di leggermelo anche in versione manga. Vi mostro qualche immagine di come graficamente è sicuramente una lettura piacevole per chi conosce, per chi ama, apprezza il romanzo, sicuramente non per chi non ha amato il romanzo perché è la disposizione quasi fedele del romanzo. L'unico difetto vero, grosso, di questo fumetto, a parte il costo, secondo me, perché sono due volumetti semplici, abbastanza fini e costano 5,95€ l'uno, ad ogni modo, comunque, almeno hanno una bella veste grafica, sicuramente la carta e l'edizione valgono. L'unico vero difetto, dicevo, di questa storia è la reinterpretazione un po' di Elisabeth, nel fumetto Elisabeth emerge, spicca per la sua intelligenza, qui è più bella che intelligente. Quindi si perde un po' il senso della storia di Orgoglio e Pregiudizio. Ovviamente io non credo serva raccontarvi la storia di Orgoglio e Pregiudizio, comunque, la storia di due sorelle, principalmente, comunque, della famiglia Bennett, dove crescono Elisabeth e la sorella Jane, che crescono in questa famiglia dove la loro madre, insomma, è anche abbastanza sciocca e che vorrebbe soltanto vederle sposate. Vicino alla loro casa si trasferisce Mr. Darcy, che è un uomo molto ricco, molto benestante. Tra Elisabeth e Mr. Darcy si instaurerà un conflitto e amore reciproco dovuto, principalmente, all'orgoglio e ai pregiudizi che investono sia l'uno che l'altro. un grande classico. Se proprio non l'avete letto, io credo che ormai la storia di Orgoglio e Pregiudizio la conoscono tutti. Sicuramente è un'ottima alternativa se non avete voglia di leggere il romanzo, ma volete invece conoscere la storia. È sicuramente un'ottima alternativa, anche perché, essendo un manga, si legge in maniera molto veloce. Sicuramente, se non avete apprezzato la genosta e nel romanzo in genosta non amate il genere, non è il fumetto adatto a voi. Oltre a questo, ho letto sempre in ebook Thunderhead. Thunderhead è il secondo di una serie di Shusterman. Il primo era falce del primo volume. Vi ho già portato la video recensione che sempre ve la metto nelle schede e nell'info box. È una serie fantasy ambientata in un futuro dove la morte è stata sconfitta. E quindi, poiché la popolazione comunque continua ad aumentare, viene instaurato un gruppo di persone che vengono chiamate falci il cui compito è uccidere le persone, cioè selezionare le persone a casa per ucciderle. Nel primo volume avevamo Cidl e Rowan che si avvestravano per diventare falci con un finale abbastanza scoppiettante. Nel secondo non vi dirò molto perché per chi non ha letto il primo ovviamente sarebbe spoiler. Uno dei due si avvia la sua vita dei falci e l'altro non vi dico di più perché veramente sarebbe spoiler. Se non avete letto il primo è un mega spoiler quindi non ve lo dico. ad ogni modo continua comunque la storia delle falci del mondo delle falci di quello che sta succedendo questo volume per chi ha letto il primo avrà capito che M è incentrato sulla figura del Thunderhead Thunderhead che è questo computer che controlla e regola tutto il mondo. Il primo libro mi era piaciuta tantissimo l'idea perché è sicuramente un romanzo molto originale che tratta anche i temi importanti la pecca secondo me è che lo scrittore non andava mai a fondo delle cose rimaneva sempre sulla superficie e anche i temi importanti venivano trattati spesso con superficialità. Devo dire in Thunderhead il problema continua a sussistere essenzialmente mentre rispetto al primo succedono molte cose inaspettate e anche sì sicuramente è un pregio ma anche un difetto perché a un certo punto non sai più dove sta andando a parlare lo scrittore non capisci cosa sta succedendo però rispetto al primo è meno scontato sicuramente perché arrivi alla fine che non sai esattamente come andrà a finire mentre nel primo volume un po' te l'aspetti e i temi trattati vengono trattati sempre in maniera molto superficiale malgrado siano invece temi molto profondi e molto importanti appunto perché trattano della vita e la morte del significato della vita insomma di tutti questi temi molto importanti cura della Thunderhead è quella che sicuramente in questo volume ho apprezzato meno quindi ho fatto proprio fatica a leggere le sue parti le parti a lui dedicate perché ci sono tutti dei capitoli dedicati appunto al Thunderhead visti dal suo punto di vista che ho trovato veramente faticosi perché niente io su Thunderhead non lo sopporto minimamente e poi gli altri capitoli sono dedicati ai vari personaggi Cedra, Rowell ma anche a tutta una serie di figure nuove che vengono inserite in questo volume sicuramente l'ho apprezzato di più rispetto al primo volume sicuramente continuo a pensare che lo scrittore non abbia il coraggio di andare a fondo continuo a pensare che rimanga sempre sulla superficie delle cose quindi lo trovo veramente un peccato in un volume che tratta temi così importanti se siete amanti delle letture fantasy tanto avete capito che in questo canale abbondano le letture fantasy sicuramente almeno è una serie molto originale tratta temi molto originali diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati quindi da questo punto di vista se volete qualcosa di diverso sicuramente ve lo consiglio anche perché è molto leggero da leggere la scrittura è molto scorrevole si legge in poco tempo anche di questo è uscita una versione Oscar Vault ormai abbiamo capito che la Oscar Vault ci sta portando delle perle estetiche questo anche con le pagine verdi la sovraccoperta la lustrazione della sovraccoperta ormai insomma avete capito la gioia almeno estetica di questi libri sicuramente non manca questo appunto per quanto riguarda la serie di Thunderhead dovrebbe uscire credo l'anno prossimo il terzo della serie sicuramente lo leggerò quando arriverà in italiano a questo punto non ho più aspettative altissime credo che lo scrittore rimanga sempre su questo dono di scrittura anche perché non avrebbe senso insomma approfondire tutto nel terzo volume anche perché in questo volume ha aperto tanti noti tante situazioni narrative che probabilmente dovrà andarci a chiudere sicuramente non è una serie che mi ha fatto impazzire ecco è una lettura piacevole ma non strabiliante ultimo ma non ultimo delle letture di ottobre chiediamo bellezza ed è Buffy L'ammazza vampiri volume 2 di questo anche dell'uno di questo ho fatto la video recezione sempre che la metto al solito nelle schede giù nell'info box innanzitutto questa è la variant non è la cover che tradizionalmente trovate in fumetteria o in libreria ad ogni modo è il volume 2 il volume 1 ero impazzita dietro a questa serie questo volume mi è piaciuto tantissimo non ai livelli del volume 1 devo dire però mi è piaciuto tantissimo innanzitutto questa variant ragazzi è qualcosa di meraviglioso è un vi dico subito veniamo subito del sodo è un volume che vi consiglio se siete amanti della serie se venite da quella serie sicuramente lo apprezzerete considerando che è un reboot altrimenti è una lettura piacevole carina ma sicuramente che non vi farà impazzire comunque piacevole per tutti quelli che sono amanti dei vampiri per chi invece è amato tantissimo Buffy penso che questo volume lo posso apprezzare innanzitutto questa serie è un reboot quindi è la storia di Buffy i personaggi di Buffy ambientati in epoca moderna quindi molte cose sono cambiate rispetto a come le conoscevamo incontriamo tutti i personaggi che ci sono quindi Spike Angel la Scooby Gang però sono molto diversi da come li conoscevamo molto più simili alla fine serie rispetto che all'inizio sono molto più consapevoli di sé e delle proprie scelte rispetto a come noi li abbiamo incontrati nella serie anni 90 ovviamente per ovvie ragioni sono adolescenti del 2020 e non adolescenti degli anni 90 come eravamo noi quando abbiamo visto la serie per la prima volta quindi ovviamente hanno dei caratteri molto diversi questo secondo volume mi è piaciuto sicuramente tanto un po' meno del primo perché nel primo avevo i disegni di Damora che io stra-adoro questo del secondo sono sicuramente cerco di non farvi spoiler sono sicuramente bei disegni però io sono troppo amante dei disegni di Damora insomma e quindi ho faticato un po' nel cambio disegnatore cerco di non farvi troppi spoiler la narrazione continua rispetto al volume 1 ma abbiamo subito già da conclusione del volume 1 una novità enorme che non ci si aspetta e che continua nel volume 2 che porta questo nuovo reboot molto lontano dalla serie televisiva perché succede qualcosa uno dei personaggi che viene sconvolto e cambia radicalmente e soprattutto radicalmente da come non lo conoscevamo e io lo sto amando adoro la narrazione di questo volume la storia è sempre di Belair anche se insomma sotto la direzione di Joss Whedon che è lo stesso creatore della serie di Bassi i disegni sono di Lopez i colori di Amulo che devo dire il volume è sicuramente un ottimo volume oltretutto con un bel cartonato che devo dire non guasta mai la qualità del cartonato è sicuramente alta questa è la cover variant e sta a costo di 21 euro ma quello che voi trovate in vendita mi pare che a costo di 19,90 euro alla fine abbiamo sempre la cover gallery che io devo dire apprezzo tantissimo perché così nel volume ci ritroviamo tutte le cover che sono uscite sicuramente una serie che continuerò a leggere anche se il 3 dovrebbe uscire a gennaio e nel frattempo dovrebbero uscire due numeri 1 di serie spin off della serie di Bassi che dovrebbe essere una di Angel e l'altra della Bocca dell'Inferno credo non lo so poi magari vi porterò notizie più sicure ad ogni modo questo è tutto per quanto riguarda le mie letture di ottobre fatemi sapere voi che cosa avete letto se quello che avete letto vi è piaciuto io chiudo questo video lunghissimo qui chiedo soltanto di iscrivervi al canale di lasciarmi un commentino sotto per farmi sapere che siete passati auguro intanto buona lettura a voi buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video ciao